Venerdì 23 luglio, presidio questa mattina dei dipendenti del gruppo Coscare all'esterno della struttura sanitaria di Villa Fastigi. Presenti anche le sigle sindacali, Will e CGL. Il presidio fa seguito a una serie di presidi che sono iniziati da Ascoli e sono proseguiti con i centri di Macerata, Ancona e oggi con Pesaro, che ricomprende anche le strutture di Cagli e Macerata-Feltre. L'applicazione del contratto della sanità privata ha rinnovato perché questi lavoratori che sono impegnati in queste strutture hanno il contratto scaduto da più di 12 anni e sostanzialmente lavorano avendo le stesse professionalità richieste nelle strutture pubbliche con medie di stipendio nettamente più basse. All'interno degli stessi percorsi formativi e corsi di laurea e quant'altro abbiamo degli infermieri e dei fisioterapisti che all'interno della sanità privata prendono uno stipendio di circa 400 euro in meno a differenza di chi lavora nel pubblico. Questo è inaudito perché gli stessi lavoratori del gruppo Coscare, quindi sanità privata, anche nel periodo del Covid hanno lavorato con dedizione, hanno trattato pazienti post-com e quant'altro. Nello stesso modo non è perché prendevano una ritribuzione inferiore hanno dato meno, hanno dato pari a quelli che lavoravano nel pubblico. Noi chiediamo alla regione di intervenire in analogia con quanto è accaduto in Emilia Romagna dove la regione ha modificato il tariffario riconoscendo il gruppo Coscare che è lo stesso gruppo che lavora nelle Marche, un tariffario differente e questo ha consentito l'applicazione del contratto rinnovato con un riconoscimento giusto, meritato di scatti di anzianità, di retribuzioni più alte e di riduzione dell'orario di lavoro. Perché loro lavorano di più, 38 ore a fronte di 36 e guadagnano di meno rispetto a lavoratori con le stesse professionalità che lavorano nelle strutture pubbliche. Stiamo attendendo da troppi anni, ormai dal 2012 che stiamo aspettando un rinuovo adeguato, c'è stato un rinuovo a ribasso e questo non è più possibile accettarlo, specialmente dopo questa situazione di emergenza Covid, ma non solo, siamo tutti professionisti e vogliamo la stessa dignità e pari diritti. L'azienda sta scegliendo di fare profitto a discapito dei lavoratori che sono appunto sottopagati e quindi anche dei servizi che vengono offerti poi agli assistiti. L'azienda per cui noi lavoriamo è convenzionata con la Regione, presta un servizio di sanità pubblica e quindi le differenze che esistono attualmente non hanno più senso di esistere. All'interno delle stesse strutture coesistono lavoratori che svolgono le stesse mansioni e che attualmente hanno stipendi differenti dopo il rinnovo del 2012 e anche questo ai fini pensionistici avrà purtroppo una sua ricaduta, quindi dobbiamo tutelare il nostro futuro e il futuro dei nostri colleghi.